Nessun ripensamento per Luigi Lopalco non sarà più l'assessore alla sanità della Regione Puglia. Il presidente Michele Emiliano ha accolto le dimissioni presentate dal professore lo scorso 11 novembre decidendo di tenere per sé la delega ed annunciando allo stesso tempo una riunione con i dirigenti del Dipartimento Salute per dare impulso alla campagna vaccinale sulla terza dose e a tutte le altre attività. Nel pomeriggio l'ormai ex assessore con una nota apparsa sul proprio profilo Facebook aveva confermato la volontà di fare un passo indietro dopo un periodo di riflessione. Si chiude oggi con la mia lettera di dimissioni irrevocabili un importantissimo capitolo della mia vita personale e professionale. Nei lunghi e terribili mesi delle passate ondate pandemiche, scrive Lopalco, abbiamo lavorato duramente per mettere in sicurezza la Regione e portare la Puglia ai vertici nazionali della campagna vaccinale contro il coronavirus. Nelle scorse settimane abbiamo messo a punto un progetto di riforma del sistema della prevenzione pronto ad essere varato insieme ad un piano globale di rimodulazione del Governo della Sanità Pugliese. Come già annunciato, con questo ritengo di aver esaurito il mio impegno nella funzione di assessore. È un addio alla politica? Certamente no. Rinuncio ad una carica e solo dopo profonda riflessione. Lopalco ha annunciato la propria volontà di non lasciare il posto in Consiglio regionale. Continuerò, scrive, a dar voce sempre in maniera critica e sotto l'egida della scienza alle migliaia di concittadini che mi hanno votato nel Consiglio regionale pugliese. L'impegno politico deve essere guidato da una visione precisa, condotto con metodo, alimentato da studio e lettura della realtà e sempre fondato su principi irrinunciabili. Grazie.